Collusioni e mazzette nella gestione dei servizi cimiteriali del comune di Taranto. Un vero e proprio sistema svelato dalla procura che ha portato all'alba di oggi la squadra mobile a eseguire otto ordinanze di custodia cautelare. Ci sono anche il comandante della polizia locale, Michele Matichecchia, e il direttore generale del comune, Carmine Pisano, tra le 14 persone coinvolte nell'inchiesta Golden System. Il pubblico ministero, Maria Grazia Anastasia, aveva chiesto per i due gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari, Giovanni Caroli, ha rigettato la domanda per mancanza di gravi indizi. Soltanto nei confronti della dirigente Barbara Galeone ha disposto la misura della sospensione per 12 mesi dall'incarico di dirigente. In carcere è finito Giuseppe Cristello, necroforo del cimitero San Brunone per conto del comune. Altri sette sono invece ai domiciliari. Si tratta dei dipendenti comunali Tiziano Scialpi e Vito Giannini, l'ex amministratore della società cooperativa Kratos, Francesco Alfeo, Antonio Sansone, Cataldo Forte, Giuseppe Ligorio e Walter Pernisco, tutti ritenuti vicini al gruppo criminale guidato da Cataldo Sambito, boss del quartiere Tamburi, recentemente venuto a mancare. 12 mesi di interdizione dal ruolo di dirigente di impresa, imposto a Filomena Clarissa Francisco, amministratrice della Kratos. L'indagine ha preso le mosse nell'aprile del 2021, dopo l'incendio avvenuto nei pressi dell'ingresso principale del cimitero, di due mezzi della società di R Servizi, all'epoca dei fatti, gestivano per conto del comune i servizi cimiteriali. Dipendenti di comune Kratos, insomma, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persone incaricata di pubblico servizio anche nei confronti dei corruttori. Secondo la procura, agivano per permettere alla società cooperativa di aggiudicarsi illecitamente la gestione dei servizi cimiteriali per alcuni anni, con un importo della gara d'appalto di circa 7 milioni di euro. Nel dettaglio, alcuni dipendenti dell'ente civico pare avessero modificato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e avrebbero compiuto una serie di azioni, volte a favorire irregolarmente la cooperativa, a discapito delle altre che avevano partecipato alla gara, in cambio, naturalmente, di presunte elargizioni di denaro. Non solo, ci sarebbe anche la concussione e l'estorsione da parte del gruppo di necrofori in associazione per delinquere. avrebbero richiesto ai familiari delle persone decedute dai 100 ai 250 euro per ogni singola procedura di tumulazione o estumulazione.